Bene, eccoci bentornati a tutti sul nostro podcast, come sempre sono Nicola Compagnoni e qui parliamo di Asta Investimenti e di Fessa del Debitore Esecutato. Signore e signori, ragazzi e ragazze, in questo episodio voglio parlarvi di una cosa che ho notato che non abbiamo mai fatto. Ci abbiamo sempre parlato di cosa bisogna fare per fare degli investimenti, ma non abbiamo mai detto cosa non bisogna fare e che a volte, pensandoci, non è la stessa cosa, quindi dire cosa fare è anche come dire cosa non bisogna fare. Quindi voglio entrare un attimo nel dettaglio di cosa non va assolutamente fatto quando bisogna parlare di investimenti. In primis voglio farvi un attimo una parentesi perché investimenti è un parolone, è un qualcosa che riprende tanto, tanto argomento, tanti ambiti. Gli investimenti possono essere sulla frutta, sui prosciutti, sulle case, sulle aste. Logicamente il nostro, essendo un canale di investimenti prettamente per la parte immobiliare, quindi aste, fallimenti, esecuzioni, o meglio tutto il mercato coattivo, noi oggi voglio fare una piccola parentesi perché c'è un mondo che a me piace tanto, e ora vi dico anche il perché, almeno nella fase qui introduttiva di questo episodio, che è il mondo finanziario. Io lo identifico nel mondo del Forex che, per chi non lo sa, è lo scambio di guadagnare sullo scambio di valute, cioè guadagnare sulla differenza che c'è quando cambi soldi tra, ad esempio, l'euro e il dollaro. Ora, io sono sempre stato un appassionato del mondo della finanza, se così vogliamo dire, quindi di azioni e investimenti a livello finanziario, e il Forex ha sempre attratto la mia attenzione. Io sono uno di quelli che nel Forex ha iniziato per gioco, se così possiamo dire, e si è fatto male, proprio perché quando ci sono di mezzo i soldi il mio più grande errore è che poi fanno la maggior parte dei neofiti in ogni ambito e pensare di essere dei giochi. Quindi gioco in borsa, è proprio sbagliato il termine, giocare non esiste giocare. Quando ci sono di mezzo i soldi non bisogna giocare, bisogna essere preparati, fare le cose serie e dare la giusta importanza ai soldi e dargli la giusta attenzione che meritano, perché veramente, io dico sempre, i soldi sono come delle persone, se te ne prendi cura allora sì che riuscirai a ricevere del bene da loro, se invece se me ne fregrissa nei loro confronti e la prendi come un gioco una persona non si potrebbe mai affezionare a te. Scusate il termine, il paragone, forse qualcuno potrebbe fraintenderlo, ma assolutamente non voglio paragonare i soldi alle persone, ma sicuramente sono come tutte le cose, gli devi dare le giuste attenzioni per fare in modo che ci sia un cambio, ricambio in qualche modo. Quindi mi sono fatto male con il Forex perché giocavo, non avevo strategie, non avevo money management, poi sono del parere che per chi fa quel tipo di investimenti, che è bellissimo, è anche meglio del settore delle aste personalmente e degli immobili, e ora vi dico anche il perché, ma devi essere un robot, devi avere proprio le tue emozioni a zero, ti devi dare delle regole, le devi rispettare e io devo dire che su questo non sono tanto bravo, ammetto questo mio limite, che io sono una persona molto romantica, passionale nel mio lavoro, ci sono alcune cose che io faccio addirittura gratuitamente nel mio ambito, ma in generale lo faccio perché ci tengo, perché mi affeziono, perché credo principalmente in quello che faccio, che poi questo è un po' tutto quello che ho sempre fatto, perché poi i soldi per me sono sempre stati una conseguenza nella mia vita, io ho sempre fatto ciò che amo e mi sono sempre impegnato, ho fatto sempre tanti sacrifici ed è poi il consiglio che do a tutti e poi quello che darò anche ai miei figli, fare sempre ciò che ami e fai tantissimi sacrifici in quello che ami, non ti accontentare mai perché è l'unico modo per cercare di vivere e non di sopravvivere, però lasciando stare tutti questi bei discorsi filosofici direi di passare un attimo questa parentesi su questo argomento del mondo della finanza del Forex e poi parlare degli investimenti immobiliari. Il Forex cosa ha di bello? Ma in realtà tutto quello che è la borsa, il trading principalmente nella borsa, è uno che quando il titolo o la valuta o l'andamento di una qualsiasi, comunque del trading o quel grafico che tutti vedete, ok? Per farvi comprendere, quando quel grafico scende, in quel momento scende o sale per tutto il mondo è uguale, non è come nel mio settore o meglio quello di tutti che stanno sul mercato facendo la libera professione può dire ma questo cliente così, o qua ci vuole il pip, quello che fa cretino, quello che fa pi, quello lì della censura, un cliente così cretino mi capita solo a me e allora te invece lì quando sale e scende è per tutti uguale, quindi non puoi essere o sentirti sfortunato, non esiste perché quello che sta accadendo a te sta accadendo ad altri milioni di persone. Poi puoi lavorare quando vuoi perché H24 è sempre aperto, tutto il mondo del Forex è continuamente aperto, H24 chiude Europa, apre Asia, chiude Asia, apre America, è eccezionale sotto questo punto di vista, puoi lavorare quando vuoi e seconda cosa puoi, terza cosa puoi lavorare dove vuoi. Per fare il mio lavoro, principalmente il mio, devi essere talmente radicato nel tessuto sociale del posto che ti costringe ad essere parte di quel posto, devi vivere, devi conoscere, devi frequentare, devi stare come dico io sempre sul pezzo. Cosa diversa invece con il trading o con un computer, una connessione a internet stale a Hawaii, seduto lì in spiaggia puoi lavorare, non hai bisogno di parlare, di conoscere la lingua, non hai bisogno di parlare con gli altri, sei solo te, la tua connessione a internet e il tuo computer, basta. Ed è eccezionale questa cosa se ci pensate, veramente è una libertà assurda, soprattutto lavorare quando vuoi, lavorare nella notte, io per esempio nel mio settore quello delle aste, quando si avvicina a dicembre il tribunale in qualche modo rallenta o chiude con le procedure di vendita o anche quelle che sono i vari adempimenti se ne parla dopo la Befana e così capita in ogni feriare come ad agosto, come a Natale, quindi invece quello è H24, è sempre attivo, puoi lavorare dove vuoi, quando vuoi e come vuoi, non hai bisogno di essere radicato a nessun tipo di persona, cultura, lingua o d'altro. Poi una delle cose che per chi fa l'imprenditore o il commerciante, ancora anche, e il libero professionista, che questo è la cosa più difficile di tutte, io avevo come qualche episodio, poi vi consiglio di andarle a vedere a ritroso, in qualche episodio ho parlato anche delle mie storie passate degli investimenti nel settore dell'edilizia, che ho perso tanto, quindi quello lì sono rimasto veramente scottato da questa cosa, oggi non tanto, ma prima tanto veramente, scusate il gioco di parola, è che nel momento in cui tu perdi, ma principalmente nel momento in cui incassi, che hai fatto un'operazione a buon fine, clicchi, premi un pulsante, i soldi ce li hai sul conto, perfetto. Non esiste il cliente che ti dice sto vannendo o billoco o biccano, il bangomat non preleva, l'assegno, ti fa l'assegno e l'assegno, ci metti pure le spese perché te lo dai impagato, il bonifico l'ho fatto però non ti arriva perché poi l'ha bloccato, guardate sono tutte macchiette che per chi è abituato al popolo, non agli dei a lavorare nell'Olimpo, quindi tra gli dei, ma lavorare di 100 euro, il cosiddetto guadagnare il 100 euro alla volta, sa di che cosa dico, ed è una cosa veramente fastidiosa che ti distrugge moralmente, economicamente e fisicamente, quindi questo è il bello del trading, ed è io lo amo come lavoro però purtroppo da tantissimi anni ho dedicato tutta la mia intera vita e ore lavorative a quello che è il mio di settore, il mio di mondo e ho abbandonato quello, soprattutto dopo che mi sono fatto male, io l'ultima volta che ho tradato e ho perso dei soldi è quando hanno inventato il quantitative easing che per chi è un po' più addentrato mi può comprendere, Draghi ha inventato il quantitative easing, crollò lo scambio dell'euro dollaro era 1,40, 1,50, a me arrivò 1,10, 1,05 all'improvviso, è perso tutto e da allora ho dovuto ricominciare, veramente me la sono vista brutta all'epoca e ho dovuto ricominciare, però detto questo che forse mi sono dilungato anche un po' più del previsto su quello che è bello il mondo del trading, l'altra alternativa a quello del mio mondo che consiglio è quindi il cosa da non fare nel settore degli investimenti è parlare di gioco, soprattutto in borsa perché sono degli ottimi investimenti, è un ottimo settore e soprattutto non deve essere mai preso come un gioco, questo volevo dire, quindi cose da non fare come dal titolo è non prendere il mondo, il gioco in borsa, chiunque fa soldi in borsa non usa mai il termine in borsa, detto questo passiamo subito invece al mondo degli investimenti immobiliari, allora io qui ve li voglio, già ne ho parlato forse più volte nei vari episodi, in qualche tratto di qualche episodio, la prima cosa da non fare è avere la presunzione di voler comprare gli immobili dove abiti oppure dove dici li posso tenere sotto controllo oppure posso fare, ragazzi i soldi non hanno né mamme né padre, il paese è del paesano quindi la gente a cane gattino compra a cane gattino, di sicuro quello da Milano non compra a cane gattino e soprattutto dove diceva il conto rottishield, per chi conosce la dinastia rottishield, quando c'è sangue per le strade bisogna comprare, anche se il sangue è il tuo, ora non ha detto bisogna comprare solo a Milano, solo a Roma, solo a Nola o solo a cane gattino, signori i soldi si devono andare a fare dove c'è bisogno di andarli a fare se a cane gattino si compravende a 1000 euro al metro quadro il cemento e io lo compro la possibilità di comprare a 200 euro io devo comprare, la persona che dice no io devo comprare gli immobili sono di Milano, compro a Milano, sono di Napoli voglio gli immobili a Napoli, a via Petrarca, a via Caracciolo, sono stupidaggi, non è gente che piace fare business questa è gente che casomai fa i soldi con la frutta e poi vuole fare gli immobili però siccome sa che è ignorante in materia immobiliare, dice no io voglio gli immobili sotto casa perché so più o meno come funziona qui il settore immobiliare quindi lasciatemi stare, non dovete, per esempio quando trovo un cliente così assolutamente neanche se mi da 5000 euro il deposito cauzionale per diventare cliente lo prendo perché sarebbe solo una perdita di tempo è proprio un limite che oggi posso permettermi di decidere di non avere i clienti con questi limiti perché sono insopportabili i soldi si devono fare dove c'è bisogno, dove c'è la possibilità di andarli a fare questa deve essere la regola sacrosanta quindi se c'è da andare in Africa andiamo in Africa se c'è da stare in Italia stiamo in Italia e questo è il segreto anche sotto il profilo immobiliare dovete, è inutile che vi distruggete il tempo, le ore, le energie vi innamorate di operazioni che vedete su Milano, su Roma, nelle grandi città e non ne fate una, non fate un euro e non ne fate una ma io personalmente che non vado mai nelle grandi città ultimamente ho anche, mi sono preso una soddisfazione dove ho detto a un cliente che era una perdita di tempo andare a fare un'asta a Napoli di un locale commerciale locato a 40.000 euro sono arrivati a oltre 150.000 euro cioè ma di che parliamo? 101 persone a partecipare ad un'asta tanto è vero che io gli ho detto compensi per me? Zero mi prendo solo il deposito della domanda proprio perché non voglio perdere tempo appresso a lui e gli ho fatto passare l'osfizio quindi vedete nelle grandi città fate fare a chi fa le aste di andare a fare queste aste nelle grandi città per me la difesa del debitore esecutata è fondamentale perché difendiamo il debitore risolviamo i problemi a lui e facciamo fare una cosa di soldi agli investitori sempre più per chi vuole comprendere questa mia metodologia nel dettaglio può tranquillamente contattarmi e troveremo un modo per sentirci ormai con queste conference call io dall'ufficio faccio videoconferenze nello stesso giorno una persona a Torino, una persona a Catania, una a Roma è bellissima sta cosa grazie al covid le persone hanno preso queste abitudini comunque di fare riunioni in videoconferenza ancora di più rispetto a prima quindi eccezionale detto questo penso che volevo restare nei dieci minuti anche se forse vi volevo dare qualche altra cosa da non fare prima di concludere ed è sicuramente per chi ha i soldi non usate i soldi vostri usate i soldi della banca i soldi vostri devono rimanere sempre lì quelli che avete cash questo è un altro limite tutti si fanno prestare i soldi non è vero che le persone con i soldi non si fanno prestare le persone con i soldi si fanno prestare sempre più soldi però non si fanno prestare i soldi dall'amico il 1000 euro vanno in banca e si creano situazioni per fare delle operazioni importanti e si fanno prestare i soldi tutti i ricchi sono indebitati tutti non esiste una persona che non è indebitata con banche principalmente i grandi quindi quello che voglio dire è che se voi avete 100.000 euro di vostri sul conto corrente tenete lì fermi lì sono i vostri per i mal di testa quando può capitare un imprevisto voi dovete usare i soldi della banca oggi le banche i soldi li regalano all'1,5% dovete usare i soldi delle banche le migliori operazioni sono quelle lì soprattutto dove già vi creano una rendita che ad esempio noi ne facciamo tante dove te compri casomai un residenziale buono al 10% di rendita te compri la produzione di quel canone di locazione te lo fai direttamente arrivare in banca non mi viene il termine esatto comunque lo fai arrivare in banca la banca ti finanzia quell'acquisto fai tutto un accordo prima ti dà lei 100.000 e casomai la produzione del 1000 euro te lo mette lo fai lo canalizzi ecco sul conto corrente così la banca ha comprato la casa quei soldi che produce tu li metti sul conto corrente e ti paghi la rata del finanziamento alla scadenza ti trovi l'immobile gratuitamente solo perché tu avevi accesso alla leva finanziaria quindi la cosa da non fare per chi ha i soldi è usare i propri soldi almeno che non è un'esigenza importante di una trattativa in cui non puoi accedere a un mutuo per via di modalità e di tempi serve una disponibilità cash prendi quella disponibilità cash e fai l'operazione ma poi cerca di rifinanziartela i tuoi soldi devono stare sempre lì usa i soldi delle banche che è importante non usare mai i soldi tuoi questo poi logicamente è tutto quello che ci siamo detti da quando è iniziato questo episodio fino alla fine sono tutti i pareri soggettivi non esiste l'oggettività per quanto poi la mia soggettività la credo oggettività sempre belli i miei giochi di parola quindi grazie e ci siamo dilungati un po' più del previsto come sempre vi saluto dall'ufficio di Nola buona vita a tutti sempre aste immobiliari sempre difesa del debitore esecutato ciao a tutti buona vita ciao a tutti 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 ciao a tutti